Si è costituito anche a San Giorgio Ionico il comitato raccolta firme per l'abrogazione della legge Calderoli che prevede l'autonomia differenziata, la presentazione presso la Casa Comunale. Credo che sia non solo un atto dovuto da parte di tutti coloro che credono, pensano, sono convinti che questa legge non sia una legge che vada nell'interesse di tutti gli italiani, soprattutto degli italiani che vivono nelle regioni del meridione d'Italia, ma perché crediamo fortissimamente che il giudizio dei cittadini che attraverso il referendum si espliciterà, noi vediamo che in pochissimi giorni sono state già raccolte più di 600.000 firme. Il comitato sarà presente in tutte le associazioni che aderiscono allo stesso e prenderà parte agli appuntamenti previsti dal cartellone estivo.